Ok ragazzi ci stiamo dirigendo all'Hasley che probabilmente sono solo, va bene Per tentare la nuova sfida di oggi che è se trovo la nuova arma il video finisce Cercherò di diciamo farmi velocemente un set di armi Non so se magari cambierò il titolo del video aggiungendo proprio il nome dell'arma che tra l'altro è il fucile pesante Non lo so ragazzi forse in futuro lo farò per ora credo che manterrò il nuova arma E vediamo un po' io ho visto ragazzi che si può ottenere solo attraverso crafting Quindi è un po' più difficile da trovare perché devo sperare che qualche nemico faccia i materiali adatti E abbia l'arma adatta per craftarla Non è che sia così facile da ottenere a differenza di molte altre armi che invece trovi tranquillamente nelle ceste È un po' più complicato però sono curioso di vedere se abbiamo così tanta fortuna E allo stesso tempo in un certo qual modo sfortuna ecco Non voglio restare troppo tempo qui perché abbiamo visto che non ci sono nemici Quindi magari mi prendo giusto le ceste lì e mi comincio ad avvicinare verso anche la barca così Ci spostiamo verso una zona dove possiamo trovare un po' di player per fightare Se la barca si ferma come deve Sì più o meno si è fermata come avrei voluto Vedo un attimo le ceste qui Eh esatto Ho avuto un po' di fortuna Ah così proprio in prospettiva della montagna così se c'è qualcuno mi elimina easy Ok e prendiamoci la barca facciamo una cosa un po' carina così E andiamo dai Aspetta faccio un attimo manovra eh Aspettate aspettate calmi Attenzione Lo sapevo che sarebbe finita così Ok andiamo E andiamo Please Grazie Esatto così mi spacco a terra Non era proprio il mio piano ma ok Ok ora stiamo attenti ragazzi perché qui era la zona dove era abbassato il bus Quindi Eh forse già ho visto nemici O era la goccia sullo schermo era un nemico Sì lo che l'ho visto vicino alle strutture quindi forse era un nemico Eh non era un nemico però il nemico sta là È white Ok Vediamo Versa salto rifle Ok Ce lo prendiamo subito Le pozzette ce l'ho Quello che gli mancava era un fucile a pompa No c'aveva pure quello ok Io ho giocato tipo per due ore Ancora la devo trovare Quindi ho la vaga impressione che quest'arma ragazzi sia veramente difficile da trovare E forse l'unico modo per trovarla è craftarla Però io non è che mi crafto l'arma Non avrebbe senso craftarsi l'arma capito Vabbè bro sei dead Non avrebbe senso C'è la C'è la C'è la Grazie a tutti.